In quest'ultima parte del corso vediamo il browser Microsoft Edge, quindi lo apriamo e c'è da dire che comunque è sempre in sviluppo e lo stanno migliorando, quindi se diverse cose che dico poi cambieranno, come ad esempio l'aggiunta delle estensioni che adesso non c'è, magari farò un altro video di aggiornamento su questa parte. Idem comunque anche sulle altre funzionalità di Windows 10 che appunto essendo l'ultimo sistema operativo subirà dei cambiamenti nel tempo, quindi vedrò poi di aggiornare e mettere una data. Allora comunque iniziamo e vediamo come si presenta Edge allo stato attuale. Allora è un browser molto leggero e veloce, fantastico, ma vediamo le cose originali per così dire. Allora questa è una pagina, anche se il motore di ricerca è comunque una pagina web a tutti gli effetti, posso salvarla intanto e al contrario di altri browser che la salvano solo come preferiti, possiamo scegliere anche di salvarlo come elenco di lettura. In pratica facendo così stiamo solamente dicendo che è una cosa che vogliamo leggere dopo, quindi se apriamo 4, 5, 6 articoli invece di metterli tra i preferiti e quindi intasare tutto quanto l'elenco dei preferiti, possiamo dirgli di aggiungere l'elenco di lettura e quindi separare le categorie. Preferiti è una categoria, elenco di lettura è un'altra categoria. Quattro preferiti possiamo anche creare una nuova cartella. Poi, allora quest'icona del libro si attiva in determinati articoli, quando li aprite, se trovate quest'icona accesa, quindi nera, vuol dire che cliccandola trasformerete la pagina web togliendo degli elementi non necessari per ottimizzare la visione dell'articolo, basta fare delle prove per capire quello che sto dicendo. La cosa più interessante appunto è la modalità crea nota web. Quando siamo in un sito o in un articolo dove vogliamo, se clicchiamo su quel pulsante che ho appena cliccato, si aprirà questa schermata e noi adesso possiamo aggiungere elementi grafici alla pagina, evidenziatori, varie modalità. Questa è la gomma per cancellare gli elementi. Tutto questo per creare una nostra personalizzazione. A che scopo? Allora, questo invece ritaglia una piccola parte. Allo scopo poi di salvare il nostro contenuto, quindi salvare una nota web, possiamo mandarla sia tra i preferiti o all'elenco di lettura, ma anche a OneNote, oppure condividerla, quindi sulle nostre applicazioni. Allora, attenzione perché condividi, lui cerca le app di Windows 10, quindi se volete condividerla su Facebook, dovete installare Facebook dallo store di Microsoft. Quindi non possiamo condividerla al volo sul social network web, ma ci vuole l'applicazione, vedete, come in questo caso installata. Quindi possiamo condividerla qua nelle nostre applicazioni, nella posta anche. Esci, e quindi questa è una buona personalizzazione. Poi, questo è per condividere al volo, quindi tutta la pagina. Oppure possiamo, un'altra cosa interessante, selezionare parti di testo, di elementi, tasto destro, chiedi a Cortana. Cortana cercherà di capire a che cosa si riferisce. Se clicco su immagine e chiedo a Cortana, Cortana pensa che mi riferisca al film immagine, quindi dà informazioni sul film. Se no, proviamo con Gmail, chiedi a Cortana. Qua ha capito che si parla di Gmail, il servizio gratuito di Google, quindi in questo caso è stato molto utile. Poi possiamo ispezionare, possiamo fare esamina elemento, sia qui che sulla pagina web, per aprire un ottimo codice sorgente. Una finestra di codice sorgente molto, molto buona che si avvicina molto a quella di Google Chrome, che è veramente ottima. Quindi per sviluppatori, se volete esaminare il codice. Altre cose, allora altre azioni, abbiamo nuova finestra in private, che sarebbe praticamente la esplorazione nascosta, quella che c'è anche su Google Chrome, quella che non lascia traccia, non lascia cronologia, fa il temporaneo e il cookies. Abbiamo lo zoom, ovviamente, trova nella pagina, stampa, aggiungi a start. Questo serve per aggiungere la pagina attuale al menu start. Facciamo una prova, aggiungi start. Apro e qua sotto, vedete, c'è la pagina che abbiamo aggiunto. Quindi per avere dei link, dei collegamenti, direttamente qua nel nostro menu. Tasto destro, rimuovi da start per eliminare. Altre cose, qua apriamo strumenti di sviluppo. Apri con Internet Explorer, quindi se facciamo così, ci apre con Internet Explorer 11, la pagina attuale. Invia feedback per dare dei feedback. Impostazioni. Possiamo scegliere un tema chiaro o scuro. Ecco qua. Mostra la barra dei preferiti. Attiviamolo. Importa i preferiti da un altro browser. Apri con pagina iniziale. La pagina iniziale è dinamica. Pagina nuova scheda. Pagine precedenti. Una o più pagine specifiche. Quindi qua possiamo dire che cosa aprire. Qua qualcuno mi ha chiesto come si faceva a impostare una pagina personalizzata. In questo modo apri con uno o più pagine specifiche, personalizzato e gli diamo il sito. Quindi gli do, non lo so, google.it. Salvo. Esco. Facciamo una prova. Edge. Ed ecco Google. Quindi abbiamo salvato una pagina iniziale. Altre cosette da vedere. Lettura. Stile visualizzazione di lettura. Predefinito chiaro, medio, scuro. Questo si riferisce al modalità di lettura. Con ovviamente anche le dimensioni dei caratteri, visualizzazione di lettura. È ottimo anche per i tablet soprattutto. In modalità tablet. Ovvero su un tablet Windows 10. Con questa modalità può aiutare moltissimo. E poi ci sono le impostazioni avanzate. Altre cosette. Blocco dei pop-up. Mostra pulsante home. Usa sempre la navigazione concursore. Privacy e servizi. Quindi questo è Microsoft Edge allo stato attuale. Quindi a pochi giorni dell'uscita di Windows 10. Vedremo poi come si trasformerà. Il corso finisce qui. Vi aspetto in altri video tutorial su tutte le varie cose che non ho detto. Cose avanzate, trucchetti e roba varia. Un saluto a tutti e grazie per avermi seguito.